Sono in piena espansione, danno affisso i volantini cercasi dipendenti ovunque, ma ancora nessuno ha risposto. A lanciare l'appello attraverso le nostre telecamere, l'azienda Nettuno Marine Equipment di Monte Labate, con una lunga esperienza nel campo della tapezzeria nautica. Da mesi, Raffaele Garofalo, amministratore delegato delle imprese in cui lavora tutta la sua famiglia, sorella, papà e mamma, sta cercando figure da impiegare nel settore, in particolare in sartoria. Una delle poche realtà in cui il Covid non ha portato ad una diminuzione del lavoro, semmai al contrario all'espansione. L'appello di Garofalo è rivolto a tutti, giovani e meno giovani, l'importante, racconta l'imprenditore a Fano TV, è che abbiano voglia di imparare. Abbiamo tanto lavoro, veramente tanto lavoro, ma non riusciamo a trovare persone che ci riescono a dare una mano per quanto riguarda la produzione. Non riusciamo a trovare dipendenti. La nostra azienda è un'azienda di costituzione familiare, che però ha anche otto dipendenti al momento. Stiamo cercando ancora personale in sartoria, ma non riusciamo in nessun modo a trovare queste persone. Adesso abbiamo addirittura stampato i volantini, alla vecchia maniera, e quindi con gli strappanumero, stiamo attaccando in giro dove è consentito. La nostra azienda si occupa di produzione di tendalini e coperture per imbarcazioni. La produzione è ovviamente tutta qui a Montelabate. Il nostro fatturato è diviso 50% Italia e 50% per l'export. Principalmente al momento stiamo cercando persone in sartoria, ma abbiamo intenzione sicuramente di inserire, abbiamo un progetto di espansione importante per la quale possiamo inserire ancora personale negli uffici. Quali i requisiti richiesti e che tipo di contratto eventualmente proponete? I requisiti fondamentali sono tanta voglia di imparare, tanta tanta voglia di imparare, tanta pazienza, tanta capacità manuale, che oggi purtroppo spesso manca ai ragazzi. Noi siamo disposti ad insegnare ai ragazzi a lavorare, stiamo cercando di intraprendere un discorso di corsi di formazione per quanto riguarda il personale specializzato, corsi di formazione che saranno ovviamente a titolo gratuito. Come è cambiato secondo lei il lavoro negli ultimi anni, il mondo del lavoro e perché la maggior parte di questi ragazzi non accetta di lavorare? O non cerca forse? Non è tanto cambiato il mondo del lavoro, sono cambiati i ragazzi, è cambiata l'istruzione purtroppo. Non tutti ovviamente, non facciamo di tutto una buon fascio, però ci sono molti, molti giovani che non riescono ad avere la capacità di lavorare manualmente, che è quella che adesso purtroppo è più richiesta, perché in un momento del genere abbiamo tanto, tanto lavoro, ma purtroppo non abbiamo chi riesce a produrre proprio.